In prima fila, quest'oggi, per le celebrazioni del 165esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, la Polizia Stradale, che quotidianamente opera per garantire sicurezza agli automobilisti e ai cittadini in genere, nel contrasto al crimine. Quest'anno ricorre infatti il settantesimo anniversario della Costituzione della Polizia Stradale, nata come specialità della Polizia di Stato il 26 novembre del 1947. Il tributo offerto dalla Polizia nello svolgimento dei servizi della specialità è stato enorme nel corso degli anni, con 373 caduti, di cui 6 nell'ultimo quinquennio. 26 pattuglie impiegate al giorno in provincia di Salerno, oltre 22.000 infrazioni al codice della strada accertate nell'ambito dei servizi di vigilanza stradale, 140 violazioni per guida sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti, 625 patenti di guida ritirate, 916 carte di circolazione, 849 fermi amministrativi e 535 sequestri amministrativi. Sono alcuni dei numeri dell'anno 2016 delle attività svolte che rimarcano il lavoro svolto dalla Polizia Stradale, che svolge meritoriamente da 70 anni un duro servizio sulla strada. Un lavoro che cambia e si rinnova, dove si evidenziano nuove minacce per la sicurezza stradale, come ha rimarcato ai nostri microfoni la dirigente della Polizia di Stato, Grazie Papa. Siamo fieri del nostro settantesimo anniversario, che sarà inaugurato dal Capo della Polizia in questo mese. Noi facciamo molte attività, ci crediamo molto all'attività di prevenzione, soprattutto quella fatta nelle scuole, e quindi è un'attività che svolgiamo in tutto il periodo e tutto il corso dell'anno accademico dei giovani studenti. Sono tre scorsi 70 anni da quando è stato istituito il gruppo della Polizia Stradale, un gruppo che oggi sempre più rappresenta un tassello importante per la sicurezza dei cittadini. Sì, soprattutto per la specificità della nostra specialità, perché noi siamo un corpo della Polizia di Stato adibito alla sicurezza stradale e quindi facciamo attività di prevenzione, di controllo su strade, sulle principali strade extraurbane e sulle autostrade. Un controllo che oggi richiama una serie di attenzioni, richiama l'automobilista a non commettere determinati errori, perché al di là, un tempo si parlava della cintura di sicurezza, oggi invece ci sono altri meccanismi che mettono a rischio proprio la vita delle persone. Sì, l'utilizzo del cellulare. Io ne approfitto proprio per dire di adottare una guida sicura per sé e per gli altri, quindi non utilizzare il cellulare, soprattutto mandare messaggi, non utilizzarlo per consultare Facebook e altri social network. Bisogna stare attenti, quindi non superare i limiti di velocità, stare attenti alla guida, indossare la cintura di sicurezza e il casco è fondamentale. Questo è il problema dell'abuso di alcol, i dati degli ultimi tempi, che cosa ci dicono? Io dico che i giovani ormai si stanno più attenti. Noi facciamo le stragi e sabato sera, quindi diciamo i servizi organizzati il fine settimana, proprio per contrastare questo fenomeno. Vediamo che un poco più sta decrescendo, perché sia i giovani stanno nei nostri controlli, sia perché forse per attività di prevenzione fatta anche nelle scuole, attraverso anche le televisioni, vediamo che generalmente chi si mette alla guida è colui che quella serata non beve, non assume sostanze stupefacenti, quindi diciamo che tutto sommato stiamo migliorando. Forse un aspetto che dobbiamo un attimo attenzionare maggiormente è la guida con il cellulare, quindi l'invio di messaggi che provoca disattenzione e incidenti.